È un documento che abbiamo fortemente voluto, è un documento che essenzialmente chiede alla Regione in maniera forte e inequivocabile di coinvolgere il nostro Comune in tutti i passaggi cruciali di queste autorizzazioni per cui le cementerie potranno utilizzare il CSS come carburante nei loro forni. All'inizio del Consiglio Comunale non era scontato uscire con un documento quasi unitario dico quasi perché la Lega ovviamente non l'ha votato, la Lega è sulle posizioni della Regione quindi non poteva sconfessare l'operato della Regione. All'inizio del Consiglio Comunale non era scontato convergere tutti su un documento unitario tant'è che addirittura il Consigliere Goracci si chiedeva maliziosamente all'inizio se noi eravamo opposizione o maggioranza alla fine l'ha votato anche lui e anche queste sono piccole soddisfazioni quindi il Comune di Gubbio tranne la Lega sono tutti uniti fortemente a chiedere alla Regione di essere coinvolti in questo processo autorizzativo. La tematica è quella del CSS che fino a qualche mese fa veniva trattato o non trattato dalla politica eugubina e dall'opinione pubblica come un tabù. Poi c'è stata un'accelerata su questa tematica perché a gennaio è entrata in vigore una nuova normativa europea che impone alle cementerie di ridurre le emissioni di CO2. Pena non poter essere più competitive sul mercato. E quindi l'accelerata è stata fatta dalle industrie, dalle proprietà nel presentare una modifica non sostanziale dell'AIA e poter così adoperare questa possibilità di coincenerimento del CSS. In mezzo a questo il problema è che la politica eugubina, l'amministrazione comunale non è stata contemplata su un tavolo serio, tecnico-politico dove si possano stendere le carte in maniera chiara e trasparente. Questa richiesta per cui la regione cerca in tutti i modi di scavalcare il comune non è detto che non ci riesca, noi faremo di tutto per evitarlo fa il paio con quella concessa secretamente, questa volta lo possiamo dire di conservare rifiuti CDR, quindi ci può essere di tutto nell'area di stoccaggio di Padule, ex Sirio. E quindi noi l'abbiamo vista proprio come una volontà di scavalcare totalmente la comunità eugubina nella gestione di rifiuti, soprattutto in zone che già hanno dimostrato una particolare fragilità, una particolare sensibilità a questo problema. Essendo consiglieri comunali e politici noi lavoreremo in tutte le sedi istituzionali per far sì che il comune possa dire la sua, il primo passo l'abbiamo già fatto. Adesso lavoreremo in regione e cercheremo di coinvolgere poi tutti i nostri politici su questa cosa. Noi che cosa pretendiamo con questa mozione? Pretendiamo che la regione convochi questo tavolo importante dove siano presenti le proprietà, i tecnici per poter valutare le varie conseguenze ambientali e sulla salute e che appunto vengano prese, vengano valutate tutte le possibilità anche positive a riguardo di questa tematica. Perché? Non possiamo più vivere con pregiudizio questa situazione, quindi ha un forte impatto tecnico perché è inutile che ci giriamo intorno. Se non abbiamo dei dati certi, se non sentiamo chi è del settore e del campo, è inutile che parliamo al bar per ore e ore di questo problema. Quindi c'è una situazione che va fronteggiata. È stato fatto un po' anche di terrorismo negli anni passati. È il momento di affrontare questo problema senza rinviarlo poi a mesi e anni futuri, anche perché non c'è tempo. Come ho detto, le proprietà hanno fatto un passo legittimo, però il sindaco di Gubbio, che rappresenta la comunità gubina, non può avere il ruolo della rete del campo da tennis, che vede la pallina che fa di qua di là, senza mai poter agire. Noi pretendiamo questo tavolo. Noi crediamo che questa richiesta di autorizzazione a bruciare i CSS non comporti nell'immediato un problema per la salute, perché si tratta di sostituire un tipo di incenerimento con un altro. Quindi da questo punto di vista può sembrare un'operazione neutra che non ne inquina di più rispetto a prima. In realtà è quanto di peggio possa esistere, perché? Perché è un'operazione che è molto comoda, che avvierà i nostri rifiuti verso l'incenerimento. È proprio contrario totalmente ai principi di un'economia circolare, che è la strategia che l'Italia e l'Europa stanno seguendo. L'economia circolare per cui ogni cosa che viene prodotta, ogni rifiuto, alla fine ritorna in uso e non viene bruciata. E questa operazione, che può sembrare neutra, ripeto, rispetto all'inquinamento, in realtà ci impedirà nei prossimi anni di poter migliorare il nostro ambiente, perché una volta che si inizia a incenerire i rifiuti è una via quasi senza ritorno. È molto comodo, è troppo comodo. Bisogna capire che idea di sviluppo economico e occupazionale abbiamo per questa città. Noi riteniamo che possa essere compatibile con l'ambiente, con la cultura, con il turismo, che è il filone su cui puntiamo. Però non per questo le due cose sono in antitesi. Assolutamente tutta Italia dimostra magari il contrario. Però è una questione profondamente tecnica. Solo in secondo piano poi subenteranno le scelte politiche opinabili, ma che devono assolutamente essere decise, franche e non lasciare scampo a indecisioni in futuro.